Aspetti Fabio, di un po' qua, che ne pensi di questa pesca passata? Beh, bella, bella, è la pedernatetina che non conoscevo, è arrapante, devo dire la verità. Come on guys, siamo ritornati in pesca, stasera c'è un grandissimo amico follower che ci segue ormai da un paio d'anni e abbiamo deciso di fargli provare questa esperienza della passata. Come sempre abbiamo la birretta, stasera testeremo due tipologie di pesca differenti e sono molto curioso di vedere l'efficacia di ambe le tipologie, perché lui è bolognesaro tipico e quindi di conseguenza sta molto leggero, terminale molto fino e bigattino e sta tentando la passata dal bigattino. Io come sempre, solita montatura e quindi non ci rimane che entrare in pesca. Montatura, non da poeta, come sempre, un brindisino a tutti quelli che ci vogliono bene e a tutti quelli che ci vogliono male. Noi vogliamo bene a tutti, grande Fabio, dai, vediamo che riuscimo a tirare fuori stasera. Comunque il medio è perfetto, serata meravigliosa, non ci rimane che vedere c'è la prima incannata. Dai, no. Non è grande. E' una gnana. E' tutto? Vabbè, sono figa retta, perlora no. Ecco qua, va, no, no, tranquillo, questo è un giotto, questo è un giotto. No? Questo è un giotto. E' un giotto. E' un giotto. Questo è un giotto. e dai abbiamo cominciato a pescare qualcosa si muove eppur si muove e poi questo è bello è più bello guarda quanto la porto io? eh? porto la qui? questo è la porto io aspetta, aspetta, tutto pazzo non c'è però aspetta 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 oh no va bella 2 ok per esempio fermo la no 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 ragazzi i 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 andava sempre con aria quindi il solito è sempre lì e andiamo da questa la mettiamo a posto qui tu l'avevi fatto andare e tornare andate e tornare la strisciava e questo lo devi strisciare a me ce l'ho ammoniato ecco pichino ecco pichino ma voglio essere così questo è più tifo, questo è più tifo questo è più tifo sì, questo è più tifo niente peccato va bene va bene fa comunque vesca quindi devo rimettere il tuo gano hai capito? cosa? eh, buono ecco 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 forta mamma è brutto? è molto dai aspetta, è un problema mio se hai uscito qui allora sistemi eh partire da qua sotto tutto qua legate per tutto giù poi c'è padone speriamo di no ecco non si stanche tutto qua sotto prima se un altro cefalo parco 2 da 3 kg e dammi una spicola dai dammela ma non è che il suo è che lo stiamo facendo meno ma questo c'è il valore, l'ho scoperto per 10 kg e la parola non è che la propria, la parola è che la propria, la propria, la propria ma che accoppi questa non la posso farci ma questo non è il problema, è la calma la serata di ghiacca di lato aspetta Mamma mia, ho visto che sono 4 kg, è un ciavolo da 4 kg, è un ciavolo da 4 kg. Sono fattiti per il rivolto, ma non è grosso. Guarda che è, vediamo un attimo il filantino per favore, non riesco a fare male. Voi prendere la nostra parte, la nostra parte, è un ciavolo da 15 kg. E' un ciavolo da 15 kg. E' un ciavolo da 15 kg. a scefali stasera ci batte nessuno porco due madonna dedicata come scapoccia capoccioni capoccioni questo è il quarto quarto cefali quarto pitone va bene va bene a quella alla penultima barca dai alla penultima spigolotti bella raga vi ho fatto la super nottata abbiamo piato cefali come se non ci fosse domani facciamo una trapescata ce l'hai la pazienza mi sa che mi tocca riportarcelo sto ragazzo vabbè raga se vediamo bacione a tutti